Buongiorno, sono Andrea Contri di Emil Ceramica, area manager per i mercati della Scandinavia e bacino del Mediterraneo da appena 21 anni. Volevo dire che quest'anno al Cersai, nonostante una congiuntura economica non particolarmente felice, Emil Ceramica si è presentata con prodotti particolarmente ricercati, tre serie che abbiamo venduto splendidamente sul nord Europa. Ci tengo precisamente a sottolineare che una di queste è un legno molto sofisticato, probabilmente vendere del legno in nord Europa è un po' come vendere dei ghiaccioli ai pinguini, però questa situazione è stata assolutamente innovativa ed è talmente piaciuto che alcuni dei nostri clienti non sono riusciti a capire la differenza tra il legno originale e il prodotto ceramico. Unitamente a quanto detto volevo rimarcare il fatto che Emil Ceramica, anche in anticipo rispetto ai programmi previsti, ha acquisito la certificazione ambientale ISO 14001 che per quanto mi riguarda è di estremo interesse, poiché oggi noi siamo in grado di produrre non solo un materiale esteticamente e qualitativamente al top dell'innovazione, ma anche assolutamente pulito, ecologicamente valido, environmental friendly e tutto ciò che noi produciamo al di fuori del nostro, che immettiamo nell'ambiente sono solamente acqua in forma di vapore, non fumi tossici e possiamo riciclare tutti gli elementi di scarto all'interno dei nostri impianti.